Una raccolta firme, siamo già arrivati ad oltre 1200 in difesa degli alberi di piazza Saione ad Arezzo, ma soprattutto per ribadire un concetto che ai cittadini di questo popoloso quartiere della città proprio non va giù il fatto che il progetto di riqualificazione finanziato con fondi PNRR non sia stato sufficientemente concertato con la cittadinanza prima della sua approvazione finale. Siete stati sentiti, ascoltati? No purtroppo, è questo che a noi non va bene, perché se l'amministrazione avesse fatto un'assemblea per tempo, e parlo di sei, anche un anno fa, noi come cittadini avremmo fatto le nostre osservazioni e poi magari non avrebbero forse tenuto conto, ma comunque le avremmo fatte. Mentre invece è stata fatta un'assemblea il giorno 9 al sottochiesa di Saione, dove la gente non era informata. Di fatto la nuova piazza, come si vede dal progetto, eliminerà la strada che attualmente divide il sagrato della chiesa dall'attuale aiuola e sarà ricompresa tra due nuove strade che attraverseranno il quartiere. In questo modo noi questo quartiere lo continuiamo a dividere, a sezionare con delle strade di lunga percorrenza, di estremo traffico, senza creare invece dei polmoni e delle zone di raccordo. Basta guardare Piazza Zucchi. Il progetto, per quanto riguarda una maggiore pedonalizzazione dell'area, precisa l'assessore alle opere pubbliche del Comune di Arezzo, Alessandro Casi, rispetta le richieste della popolazione. Nessuna cementificazione, ma anzi verranno usati in materiali di pregio come il porfido e la pietra. Nelle nuove zone verdi saranno piantumati nuovi alberi a fusto alto, ma siamo disponibili ad aumentare la superficie delle aree verdi e a piantare altri alberi andando incontro alle richieste della popolazione. Poi se dobbiamo arrivare alla contrapposizione, le piante ancora non sono proprio talmente grosse che ci possiamo abbracciare intorno e vediamo se dobbiamo arrivare anche a questo.